Federico D'Amico, una partita sofferta, difficile, proprio all'ultimo istante, l'hai vinta con il tuo gol. Siamo stati molto coraggiosi, impegno sempre, devo ringraziare il mister Francesco Piersantelli che mi ha messo dentro gli ultimi cinque minuti e comunque è merito della squadra. Un campionato difficile, molto equilibrato, con squadre forti, erano importanti questi tre punti? Molto, molto importanti. Gli altri anni giochiamo al girone di Ancona, dove c'era la botte CSM, era sempre difficile. Questo girone di Macerata è bello, molto bello, è equilibrato. E obiettivi stazionali? Sempre in alto bisogna lottare, sempre, e cercare di vincere il campionato. Perfetto, ti ringrazio e buon proseguo allora. Ciao, ciao.